Ma sa, il problema non è quello di intervenire sulle pensioni più generose. Vedete, molte volte si danno numeri che sono più che altro per soddisfare quelle che sono le situazioni che ci sono nel Paese. Le pensioni più generose hanno un ranch di differenza tra contributi versati e pensione percepita non estremamente elevata. Se si dovesse intervenire su quello, perché è un reddito, bisognerebbe intervenire su tutti i redditi, e il ranch che è più alto è proprio delle pensioni medie, medio-basse, Allora io credo che bisogna ragionare con molta serietà e con molta responsabilità, senza fare della propaganda, capire che si possono fare alcuni aggiustamenti, capire anche che, per esempio, la riforma Fornera bisognerà modificarla sotto certi aspetti, perché poi non si dice, e questo credo che sia un'omissione che debba essere eliminata, non si dice che la riforma Fornero ha danneggiato alcune categorie, ma ha privilegiato altre categorie, per esempio i professori universitari, per esempio, l'ho preso così, per esempio. Quindi bisogna rivedere la riforma Fornera, fare in modo che vi siano delle certezze, delle garanzie per le persone che dovranno andare in pensione, che vanno in pensione sia uomini che donne, ma che vi siano anche certezze di stabilità economica e finanziaria per quanto riguarda il sistema pubblico pensionistico. Io sono convinto che con l'Inps dobbiamo ragionare, ragionare con grande responsabilità, e vedere come è possibile riorganizzare l'Inps, pur sottolineando, ancora una volta, che vi sono grosse potenzialità, e grosse potenzialità nell'Inps, per vedere come adeguare l'Inps al terzo millennio. Perché, come ho detto, l'età media dell'Inps è molto elevata e c'è bisogno anche di mettere nuove forze all'interno del sistema. L'Inps è la più grossa azienda d'Italia, quindi bisogna fare in modo di ragionarci con grande serietà e con grande responsabilità. Fare proclami o dire delle cose per soddisfare semplicemente quelle che sono le questioni che vengono dalla piazza, credo che questo non giova a nessuno. Non giova alla politica, non giova alla società e non giova soprattutto all'Inps. Presidente.